I can never be lonely if you put your hand in mine I can never be lonely if you walk with me this time I can never be lonely Buongiorno ragazzi, anche oggi in montagna, oggi siamo in Val di Cunes, abbiamo parcheggiato l'auto a Malga Zarmes e il nostro obiettivo sarebbe raggiungere il rifugio delle Odile. Il tempo di percorrenza è di un paio d'ore, comunque è un sentiero tranquillo, penso alla portata di tutti e guardate che bel panorama e adesso andiamo. Oggi con noi c'è anche una mia amica, mi quadra la mia amica da Manu Buongiorno, siamo in tre, oggi ne ho due, non una, pensate come sono ridotto, un uomo con due dame fa figura del salame, un lusso oggi, un lusso Buongiorno, ciao ciao e comincia il canale, un quarto d'ora da partenza più o meno e finisce la strada e ora qui proseguiamo verso il rifugio Genova e la strada qui adesso si trasforma in sentiero, continuiamo Buongiorno Ora ragazzi a 35 minuti della partenza siamo sul sentiero Adolf Munchen, abbandoniamo il sentiero numero 6 e prendiamo il sentiero 35 che dà il rifugio delle Odile e qui al primo momento abbiamo fatto tutto abbastanza nel bosco, vediamo se adesso si apre A un'ora dalla partenza, guardate che spettacolo incredibile, bellissimo e adesso continuiamo sul sentiero che per il momento non è mai stato difficile molto semplice, anzi molto semplice Continuiamo Grazie 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 Eccoci a un'ora e cinquanta dalla partenza troviamo questo sentiero, cambiamo il 35 nel 36 A che segna 20 minuti rifugio delle Odile Forza che ci facciamo anche stavolta, ecco i miei compagni di Narende Amici del canale, missione compiuta, due ore in quarto ed eccoci arrivati, guardate che panorama, al rifugio delle Odile Per questo è il sentiero facile per tutti, ideale per questo periodo d'inverno, adesso ragazzi il rifugio è aperto, quindi qui si mangia e si vive e ci vediamo dopo per la partenza Grazie 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 E adesso il meritato graffino offerto Ciao 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 Looking for a purpose Looking for a change Remember if you're hurting Along the way That I am still right here I'll always be right here The light is on So when you're ready Come home Come back home to me Che dire, location strapitosa Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto Avete fumato E adesso torniamo Allora per tornare si può scendere Per la strada forestale Oppure si può fare questo sentiero qua Che un'ora ci dovrebbe riportare Al parcheggio Oppure eventualmente C'è la possibilità di fare anche l'anello Ma siccome dobbiamo rientrare Teremo l'anello per la prossima volta Ok Amici del canale Eccoci tornati Al punto di partenza Guardate che spettacolo Che panorama Anche oggi Il nostro trek è finito È stato un bel giro È stato un bel giro Un giro per tutti Ed è bellissimo In questa stagione Che c'è la neve Quindi abbiamo fatto Andata Il sentiero normale Facendo 6.35 Che non è la pista È già un giro un po' più complesso Ma molto bellino E al ritorno Abbiamo fatto per ritornare Il 36 Facendo una specie di giro L'anello Bene dai Il giro è finito Spero vi sia piaciuto E se vi è piaciuto Come sempre Vi chiedo di mettere un bel like Un pollice in su E se volete vedere altri video Come questi O dell'ucidazione Sul tragitto Non esitate a scriverlo Nei commenti Ciao a tutti Domenico Ciao a tutti Ciao a tutti